La raccolta di Firenze Dance del 26 febbraio del 2015 partivamo dallo 0,34% del lato e siamo arrivati nel mese di febbraio al 37% certificato con tanto di comunicazione all'assessore per le zone energie e rifiuti e il 35% a gennaio, quindi il dato sulla corte dei conti parlava dell'attuale, l'anno scorso abbiamo incluso su una scala annuale abbiamo fatto il 20% però dobbiamo tenere conto che a gennaio e febbraio non abbiamo fatto la raccolta differenziata abbiamo avuto punti di 40% a maggio, dati reali, qua c'è tutta la tabella che ancora non abbiamo pubblicato con l'artitetto Minafra perché pensiamo di pubblicare anche i costi che è la cosa più importante e poi aspetto al barco è qui senza problemi che tutti gli altri comuni che dopo di noi hanno trovato una raccolta differenziata come Carini, Terrai Carini, Tibale Strate, Giardinello, Montelepre, ultimamente anche Cinesi per vedere a consuntivo quanto risparmieranno, noi qua i dati ce li abbiamo e sono inconfutabili, nel 2014 lato ci ha consegnato delle fatture comprensive della discarica di 2 milioni e 14 mila euro, l'anno scorso con una polizia straordinaria del porto dopo la forte mareggiata e tutta una serie di interventi aggiuntivi noi abbiamo concluso a 1.475.000 euro, cioè qualcosa come quasi 600.000 euro, consideriamo che in questi soldi ci sono la incongestione della Serego che ha gestito la raccolta differenziata per un complessivo importo di 111.000 euro, abbiamo attivato tutte le raccolte dell'organico, del legno e della votatura per un totale di 25 euro, abbiamo fatto tutte le analisi mercologiche dalle frazioni che abbiamo differenziato per 450 euro, insomma abbiamo preso il massimo dal consorzio recupero del vetro, il 100% per la qualità del vetro che avevano fatto i cittadini in attività commerciali, abbiamo preso quasi il 70% dal consorzio Corella per la basica raggiungendo la cifra quasi il record per la Sicilia di 225 euro a tonnellata e soprattutto siamo riusciti a pagare sempre con l'impegno, con le ordinanze del sindaco e del vice sindaco con l'impegno sul campo, sempre gli operai e ce l'ha dato a mezzo anche l'altro Falermo 1 in una relazione del mese di gennaio in cui aveva vistato il comune di Isola delle Femmine come l'unico comune in regola con tutti i pagamenti e abbiamo chiuso con le previsioni che avevo fatto a luglio non a 500 tonnellate e a 500 mila euro di disparmio ma a oltre 600 mila euro di disparmio e abbiamo mantenuto i costi che noi ristiniamo quest'anno quando l'Agest partirà penso tra qualche settimana col servizio, noi scenderemo il servizio a 1 milione e 44 mila euro pagando ben 17 operai facendo la raccolta di differenziata con enormi risparmi e soprattutto le discariche siamo scesi in maniera gigantesca dai 600 mila euro del lato a poco più di 285 mila euro nel 2015, ora nel 2016 la scommessa è su questo articolo 42 sulla raccolta differenziata se manteniamo lo standard dell'anno scorso considerando che il gennaio febbraio non l'abbiamo fatta chiuderemo l'anno con 1200 tonnellate, cioè significa che avremmo fatto sul quantitativo previsto qualcosa come il 45%, la mia previsione, la nostra previsione, il nostro augurio è che l'isola ecologica l'articolo 42, la scontistica ci consente di fare quel salto di qualità e fare il 65% sicuramente perché se noi abbiamo finora oltre 400 tesioni a più differenzi meno tali, si è partito l'11 novembre ma è una diffusione diciamo continua da parte dei cittadini che vanno all'isola ecologica noi non abbiamo organizzato niente con Repubblica, il Kennedy che è il consigliere di Altanissetta è venuta pure un orario vicino a mezzogiorno alla chiusura e venivano le persone a pesare la plastica l'organico, cioè noi abbiamo fatto un esperimento dall'11 novembre al 31 dicembre e non possiamo garantire sconti a nessuno, ma adesso c'è un impegno e qui non facciamo copiato da zaffare a retneri, tutti citano per avere enormi risparmi l'anno scorso, quest'anno, a fine anno 2015 hanno rimborsato la Tari di tre anni prima noi parliamo di un progetto dove dopo nove mesi gli rimborsiamo la Tari dell'anno precedente parliamo di cose in tempo reale, non parliamo di Trapani che è attestato al 15% e fa uno sconto dal 20 al 40% se vai a pesare e quindi non è al nostro 35%, non parliamo di tante altre realtà come Alcamo che ha avuto modo di conoscere profondamente come funziona il servizio, fanno il 49%, fanno un progetto dopo dieci anni di raccolta differenziata e mettono 80 mila euro di montepremi per il risparmio e dopo due anni redistribuiscono 40 mila euro qua l'amministrazione sta prendendo un impegno, se noi facciamo il 65% non è che il comune risparmia una cifra di 200 mila euro, risparmerà molto di più perché soltanto l'ecotassa inciderà 12 euro a tonnellata in meno se non lo facciamo, ogni volta che noi rimaniamo al 35% non pagheremo più 12 euro a tonnellata, ne pagheremo 36, quindi nessuno si mette in testa che è sotto del 65% noi raggiungeremo questo risparmio, quindi il progetto che prevede mille utenze, mille card, mille pesature, mille sistemi sperimentali è basato sui dati, noi l'anno scorso abbiamo chiuso in maniera incredibile l'organico partendo da 0 a 220 tonnellate, abbiamo fatto una media di circa 11-15 tonnellate, attualmente siamo a 26, da una settimana, anzi da due settimane abbiamo attivato un servizio dedicato dalle 12 alle 18, da mercoledì a lunedì, cioè significa domenica compreso per tutti i ristoranti e le attività commerciali e già siamo a quasi una tonnellata in più a settimana di organico, l'obiettivo principale è quello di portare avanti un sistema, più differenzi meno tali, io ho concluso il mio intervento, nell'articolo 42 c'è la summa del regolamento della città di Ferrara, della città di Bologna per quanto riguarda le agevolazioni per i cittadini, di Zafferano e Teneia per quanto riguarda le percentuali, ma noi siamo andati oltre, l'amministrazione a casa sta prendendo un impegno con tutti i cittadini, ho differenzi e ti facciamo uno sconto e lo verrai penalizzato, non è pensabile che noi domani togliamo i cassonetti, perché io ad Alcamo vi assicuro che ci sono anche l'abbandono selvaggio dei sacchetti, in una fase successiva li potremmo anche togliere, ma nel risparmio totale si fa se la gente è responsabilizzata, io penso che sia una svolta storica, perché questo articolo 42 insieme al compostaggio domestico al 50% dove il 50% esiste soltanto nei comuni del Veneto in alcune realtà, noi siamo andati oltre, ho fatto una stima sul compostaggio domestico.